bella ragazzi bentornati sul mio canale siamo qui oggi con un nuovo episodio della road to division one allora nello scorso episodio abbiamo iniziato a comprare dei giocatori tedeschi che adesso vi farò vedere tra l'altro alcuni li ho comprati a telecamere spente perché ho deciso di scartare tutta la seconda squadra come avete potuto vedere nello scorso episodio abbiamo fatto un turnover che era la seconda squadra che ho dovuto vendere scartare perché era davvero inguardabile tralasciando anche diamanti alcuni che un po' mi dispiaceva scartarli o venderli però ho dovuto farlo allora questa è la seconda squadra che sono riuscito a creare tra l'altro mi manca ancora il terzino sinistro è l'attaccante di sfondamento che devo scegliere tra close e miller anche se mi sa che costere costicchiano un po' comunque la squadra non è non è male tre stegen poi bungart qua la pronuncia un po' da vedere però un ottimo difensore visto le statistiche poi rudiger dick mayer poi a sinistra per comprare qualcuno poi arnold meyer max max meyer mi pare maximilian meyer vabbè fortissimo vender sam poi ovviamente andando avanti magari posso comprare un five skiller o quattro stelle skill che alla destra ce ne tantissimi la punta da decidere insieme poi ho comprato draxler che non è male a sinistra poi vabbè adesso andiamo avanti possiamo anche comprare schurle ovviamente ci vogliono tanti crediti per comprare quei giocatori lì allora siamo in divisione 8 la scorsa episodio ne abbiamo vinta una abbiamo persa una quindi con una vittoria diciamo siamo rimaniamo in questa divisione con due vittorie dovremo essere quasi lì ad agganciare la settima divisione allora io direi subito di ovviamente di puntare con questa squadra che è la più forte che opera adesso ovviamente dobbiamo mettere ma non abbiamo le forme fisiche vero vabbè sti cazzi si va avanti raga dobbiamo vincere con la serie a team diciamola così anche se è un'italiana questa ho tolto sì perché nei commenti mi avete detto tanti ma non stai facendo un'italiana tranquilli raga stavolta è solo italiana e qua sotto la vedete la tedesca che è quasi completata valotelli valotelli ancora in fascia valotelli può andare al cross facciamolo dirà meglio non farlo dirà buona con valotelli ok fermato molto bene però attenzione anderson anderson in mezzo attenzione marchetti oh mio dio jerome la larga per origi 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 per jerome jerome e vabbè 1 a 0 dobbiamo assolutamente rivoltare il tutto si riparte dall'1 a 0 dai ragazzi siamo solo all'inizio gabbiadini accelera gabbiadini ancora lui gabbiadini 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 arriva l'1 a 1 ancora manolo che ha fatto davvero il devasto ed è fortissimo ragazzi provatelo io ve lo dico sempre ma provatelo ed er ed er può andare al cross in mezzo c'è qualcuno berardi non ci arriva perché sbaglia maggio maggio no vicinissimo al 2 a 1 ed er ed er ed er la quale è rimasta sturaro sturaro centrale vabbè primo tempo 1 a 1 una partita equilibrata anche se noi un tiro un gol loro due tiri un gol quindi pochi tiri ma quello che conta la finalizzazione i ballotelli non sta girando però non attaccanti raga facciamo una cosa mettiamo meier mettiamo gabbiadini prima punta vediamo come cosa cambia ed er ancora per gabbiadini gabbiadini numero gabbiadini 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 centrale allora attenzione ancora gabbiadini parte il tiro a giro centrale palla per buonaventura è tutto regolare buonaventura buonaventura in area buonaventura buonaventura palla in mezzo attenzione non ci credo non ci posso credere che culo che ha no non ci credo raga ma che culo ha avuto cioè mi ha fatto tunnel mi ha fatto ma che culo ha avuto cioè guardate qua questo è culo dai raga poi ultimo vuoto arriva il 2 a 1 raga attacco totale per l'ultimo sforzo eccolo gabbiadini il 2 a 2 dai dai così dai ce la possiamo fare dobbiamo vincerla raga non stavo commentando perché quando il gioco ti vuole far perdere così cioè ha fatto 4 tiri 3 gol io vabbè ho fatto 2 tiri 2 gol è vero però porca puttana guardate qua vediamo se nel finale riusciamo a fare lo script addirittura gioca la palla indietro e sbaglia dai eccolo gabbiadini e me l'ha parata c'è un siluro sotto l'incrocio me l'ha parata un'altra sconfitta dopo la scorsa sconfitta ne arriva un'altra eh questo è pesante però Manolo Gabbiadini vuole un partito da Sky senza ombra di dubbio però è una sconfitta molto ma molto pesante ha fatto più tiri io tra l'altro lui 4 tiri 3 gol l'avevo detto vabbè andiamo avanti abbiamo ancora molte partite perché comunque siamo all'inizio 2 vittorie 2 sconfitte male 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 ma allora 2000 crediti lo so che abbiamo perso raga però io voglio rinforzare l'altra squadra che adesso ve la rifaccio rivedere e allora ragazzi nuovo acquisto che tra l'altro posso usare in entrambi squadre perché diciamo serie A in tale però vabbè close nuovo acquisto dai per rinforzare la nostra Germany ok ragazzi ecco il nostro prossimo avversario che c'ha sau attenzione perché col suo 94 di velocità potrebbe darci davvero tanti problemi è una serie A con un Mersi in prestito poi un brasiliano così a caso non dobbiamo sottovalutarlo noi comunque abbiamo Miroslav close si parte ragazzi nuova avventura con i veri Tetescan close in mezzo attenzione la palla è ottima però non va close close se ne va eccolo il tedesco se ne è andato velocissimo close 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 tu per tu close close cos'è sta cosa no Draxler Draxler fortissimo Draxler Draxler ancora Draxler Draxler giro palo la pala è rimasta lì non va Pjanic Pjanic numero Pjanic a giro rischio al 1-0 no Draxler Draxler ancora Draxler Draxler calcio d'angolo cross in mezzo attenzione Pjanic Pjanic traversa anche lui ancora calcio d'angolo andrà corto no va al cross in mezzo Draxler viene fermato attenzione Lulic e vabbè che palle però che palle non dovevo perdere palla lì annaia raga allora qui io direi di far tirare Draxler Draxler col tiro peccato non è entrata è vicinissimo all'1-1 guarda quello cade da solo e fallo ma che fallo è non capisco davvero magari pure rossa dai già vicissiamo giallo che falli mi sta fischiando contro Correa le sa battere vediamo se lui le sa battere ecco mi auguro rompere la palla con l'uomo cos'è tripla finta pure nel mini lag eh vabbè vabbè io direziono un giocatore me lo fa centrale ma com'è possibile guarda io quello ho direzionato raga l'episodio lo lasciamo perdere va raga non so che dire non so che dire anche perché brutto episodio cioè proprio un brutto episodio davvero brutto ha fatto un tiro lui 7 ma dove l'ha fatto il 7 tiro ha fatto ultra difensiva si è chiuso in difesa niente ragazzi per questo episodio finisce così un episodio inguardabile non so neanche io cosa è successo è proprio rispetto a tutti tutti gli altri episodi davvero questo episodio è inguardabile comunque andiamo a vedere un attimino quante partite ci mancano diciamo per rimanere diciamo bene nella soglia ecco allora guardate gli ultimi tre episodi abbiamo perso 2-0 3-2 e 2-0 davvero schifo allora comunque per la salvezza diciamo ci mancano 2 punti quindi è fattibile ma soprattutto è fattibile anche per vincere l'ampionato perché sono 15 ci mancano 5 partite 5 per 5 fa 25 quindi possiamo vincerlo alla grande però per questo episodio è tutto sono rammaricato guardando queste sconfitte boh ho perso forse la convinzione che avevo nei primi episodi fatemela ritrovare qui sotto nei commenti con un bel like spaccatelo distruggetelo datemene tutto